Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della Computer Museo Oggi siamo tornati a parlare di batterie, ma non batterie normali perché stiamo parlando di batterie ricaricabili non solo Non sono ricaricabili normalmente con un classico caricabatterie ma bensì con le classiche USB di tipo micro Infatti stiamo parlando di batterie con la possibilità di ricaricare direttamente attraverso l'utilizzo di una semplice porta USB Tutto questo lo scopriremo subito dopo la sigla E quindi oggi andremo a recensire delle batterie, ma non delle batterie normali come vi stavo dicendo d'anticipo Ma stiamo parlando di batterie che si ricaricano attraverso l'utilizzo del cavo USB E voi penserete magari con un caricabatterie classico? No, direttamente col cavo USB Infatti sulle batterie, adesso vi mostrerò meglio, ci sarà proprio la nostra presa micro USB che ci permetterà di ricaricare direttamente dalla fonte E abbiamo qui con noi due versioni di queste batterie che sono la versione AA e la versione AAA Quindi stiamo parlando di batterie con una capacità di 3300 mW orari Attenzione, non mAh che è completamente un'altra cosa Ma stiamo parlando di batterie stilo in questo caso Che adesso andiamo a recensire, scusate per la scatola ma purtroppo mi si è rotta mentre stavo registrando la recensione L'ho dovuta anche rifare All'interno ci troviamo la garanzia che ci dice che BL è un negozio professionale dal 1998 Dove ci sono tutti i contatti dell'azienda e sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Insieme ci troviamo il manuale di istruzioni che troviamo sia in inglese che in spagnolo, che in italiano, che in cinese E all'interno ci troveremo anche il cavo USB che è composto da una presa USB più 4 micro USB E le nostre batterie che si trovano all'interno della confezione di sicurezza E queste sono le nostre prime batterie Che come potete vedere adesso vi mostrerò più nello specifico attraverso l'uso dell'apertura del nostro pacchetto Quindi andiamo ad aprirlo completamente e troveremo, forse non so se si può notare tanto facilmente la nostra telecamera Che ogni singola batteria ha un suo attacco micro USB Stessa cosa vale anche per il modello del stilo AAA Quindi stiamo parlando sempre della solita garanzia nonché della presentazione del negozio con tutti i contatti I manuali di istruzioni sempre con le solite 5 lingue Il caricabatterie anche qui con la USB e le 4 micro USB E le nostre batterie ricaricabili Mini stilo con tanto di certificato di garanzia Che quando noi andiamo ad aprire rompiamo praticamente il sigillo E anche queste qui hanno anche loro le micro USB sopra alla nostra batteria Quindi come potete vedere sono veramente veramente belle Come funziona il metodo di ricarica? Semplicemente ci servirà un power bank o una presa e le andremo a collegare direttamente alla nostra spina Quindi una volta che le andremo a collegare alla nostra spina potremo notare che sulla nostra batteria si accenderà un LED Un LED che sarà rosso quando è in carica Una volta che sarà completata la carica il LED da rosso diventerà blu E quindi vorrà dire carica completata Quando invece le batterie saranno cariche ufficialmente come potete notare la batteria da rossa diventerà bluetto bianco E questo vorrà dire carica completata E adesso andiamo un secondo ai prezzi perché sono veramente competitivi Stiamo parlando di batterie ricaricabili che normalmente le batterie che vanno dentro ai caricabatterie costano intorno ai 10€ Queste batterie con 5€ in più potremo avere questo esatto modello Ma non è finita qua Infatti nel nostro video troverete in descrizione video il codice sconto speciale della Computer Museo per l'acquisto di queste batterie E quindi non mi resta nient'altro che lasciarvi il link in descrizione Ringraziare EBL per questa recensione ma soprattutto per averci contattato per recensire i loro prodotti Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata Vi lascio tutti i link in descrizione Ciao ragazzi